raga come state spero bene allora nuovo video outfit questo è il mio outfit vedete con questi stivaletti della eval soft jeans non jeans come si chiama non ve nemmeno metà la parola leggins pantalegins pantalegins questa maglia bella che ha preso alla matalena bellissima e niente questo mio trucco di oggi non è nulla di che ho solo fatto le mie belle sopra ciglia e ho cambiato anche borsa perché quella lì la porta solo per fare videoblog sto parlando dello zaino di ieri che rimanda il video di ieri quando andrò a caricare questo video perché ho utilizzato questa borsa oggi sto parlando di questa borsettina qui molto bella abbiamo fatto vedere anche in altri video acquisti e mi piace molto e quindi niente ve lo volevo far vedere mi piace ci metterò mi indossero oggi bot di zara che è molto bello tra l'altro non so se sta ancora piovendo o meno ma porterò l'ombre non lo so forse utilizzerò quello zaino lì verde che non vedete però c'è e niente e quindi questo è il mio outfit per stamattina perché pato esco un po con una mia amica che poi non è un'amica ma è un'amica si diciamo un'amica speciale per me però va per dettagli e chi vuole capire capisce ovviamente non posso dire di chi è un'amica si tratta perché è un'amica va bene così nulla questo è il mio video outfit mi giro pure bene e ve lo faccio vedere vedete questo è il mio outfit e nulla se vi piace questo outfit questo obbligamento fatemelo sapere sotto qua nei commentini e nulla adesso io tra poco mi vesto non so neanche chi adesso non penso che tra poco arriva l'ora che arriva la mia amica e niente intanto guardo qualche po' di tv o di youtube di video posti di youtube perché non ho fatto a tempo perché ero veramente molto stanca ma va bene così ciao a presto un bacio buona giornata a tutti ciao ciao